Vediamo più in generale come si realizza una cosiddetta porta logica complessa in tecnologia CMOS. Quindi porta logica complessa e in inglese si dice complex logic gate. Allora, abbiamo visto come si fa una NAND, come si fa una NOR, abbiamo visto che qualsiasi rete combinatoria si può ottenere con un piano AND e un piano NOR, oppure due piani NAND o due piani NOR. Questa cosa l'abbiamo vista insieme. Adesso vorrei farvi vedere come è possibile, una volta che abbiamo definito una funzione logica, realizzare un circuito, cioè una porta logica complessa, che svolga quella funzione logica. Dunque, qual è il principio generale? Se io ho una funzione Y di alcuni ingressi, immaginate che Y sia un numero binario e anche A, B, C e D siano ingressi binari. Questa F è una funzione generica che può essere descritta, come sappiamo, da una somma di prodotti o da NAND e NAND, eccetera, eccetera. Adesso non ci interessano questi dettagli. Come è fatta una porta logica complessa? Nel caso più semplice è fatta in questo modo. ha due reti, una rete che si chiama rete di pull-up, una pull-up network, una rete che si chiama rete di pull-down. Le due reti sono collegate in questo modo dall'alimentazione alla massa e ricevono come ingressi le variabili di ingresso della funzione tutte e due. L'uscita viene presa qua. Allora, tutte le porte logiche complesse hanno questa struttura. La pull-up network come deve funzionare? Per i valori di ingresso per cui l'uscita deve essere alta, la pull-up network deve essere un cortocircuito. Dunque, pull-up network deve essere on per la combinazione degli ingressi degli ingressi per i quali y deve essere uguale a 1. Corrispondentemente, per la stessa situazione, la rete di pull-down deve essere off. Quindi, questa situazione qui si ha quando in ingresso ci sono valori per cui l'uscita della funzione deve essere 1. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. VDD, un interruttore chiuso e la rete di pull-down fa da interruttore aperto. Per cui l'uscita ovviamente è alta, cioè è uguale a 1. Questa è la pull-up network e questa è la pull-down network. Va bene? Quindi l'uscita è alta perché la rete di pull-up conduce e la rete di pull-down non conduce. altrimenti la pull-up network deve essere off, deve essere un circuito aperto e la rete di pull-down deve essere on per la combinazione degli ingressi per i quali l'uscita deve essere alta. Per le combinazioni degli ingressi per le quali, anche qui plurale, per le combinazioni degli ingressi per le quali y deve essere uguali a 0. Va bene? Quindi in pratica la rete di pull-up e la rete di pull-down si definiscono appena si conosce la funzione. Ricapitolando, se F di A, B, C, D è uguale a 1, la rete di pull-up deve essere on e la rete di pull-down deve essere off. Per le combinazioni, se F di A, B, C, D deve essere uguale a 0, allora la rete di pull-up deve essere off e la rete di pull-down deve essere off. Come sono fatte queste reti? Questo l'ho già detto, la rete di pull-up è fatta da transistori di tipo P-MOS la rete di pull-down è fatta da transistori di tipo N-MOS. Gli ingressi, le variabili di ingresso, vanno tutte ai gate dei transistori. Queste vanno ai gate e anche queste vanno ai gate Facciamo un esempio così si capisce perché ho detto in generale ciascuna funzione si può scrivere come somma di prodotti quindi più o meno io posso sempre riportarmi a un caso di questi una somma di due prodotti dunque come si realizza questa cosa? In questo modo se ho una situazione del genere devo fare questa osservazione devo dire va bene quindi quando Y è uguale a 1 la rete di pull-up deve essere in conduzione siccome questa funzione è la somma di due quantità io posso trattarla come due rami in parallelo se questo ramo conduce Y quindi la rete di pull-down deve essere fatta scusate la rete di pull-up deve essere fatta da due rami in parallelo perché se il ramo che corrisponde alla prima funzione conduce la rete conduce ma anche se il ramo che corrisponde alla seconda funzione conduce la rete fu conduce quindi il fatto di avere due rami in parallelo mi implementa in pratica una funzione di tipo OR il parallelo di due rami conduce se almeno uno dei due rami conduce quindi io questa la realizzo in questo modo ho la rete di pull-up ho un ramo che riconosce ABC e un ramo che riconosce DE come fanno a riconoscere cosa vuol dire riconoscere ABC quando è che questo termine ABC è uguale a 1? quando sia A, sia B, sia C sono uguali a 1 questo in pratica lo posso trasformare dal punto di vista circuitale in una serie perché perché la serie di tre elementi conduca devono condurre tutte e tre d'accordo? quindi io posso dire va bene metto qua un transistore che conduce quando C è alto e essendo PMOS basta metterlo in questo modo perché quando C è alto C negato è basso e quindi PMOS conduce poi qui metto in serie un elemento che conduce quando B è alto ed è questo e qui metto in serie un elemento che conduce quando A è alto ed è questo quindi questo ramo conduce soltanto quando A, B e C sono alti va bene? analogamente io di qua faccio un ramo che conduce soltanto quando D ed E sono alti il parallelo dei due rami conduce quando o A, B, C sono alti oppure D ed E sono alti quindi questa è la rete di pull up che conduce soltanto quando la funzione è 1 va bene? ora la prima volta da spiegare è un pochino macchinoso però nella pratica è automatico da ricordare vedete come è fatto una somma di prodotti la somma si traduce il ramo in parallelo i prodotti si traducono in elementi in serie e quindi ho il prodotto di 3 più la somma di 2 mi viene la serie di 3 in parallelo alla serie di 2 poi l'altra cosa che è importante è che siccome questi transistori sono P-MOS per la rete di pull up il P-MOS conduce quando sul gate c'è 0 quindi per far condurre il P-MOS quando C è uguale a 1 devo mettere su gate C negato va bene? e anche qui ovviamente c'è di negato e negato va bene? quindi questo l'abbiamo visto in questo esempio però siccome qualunque funzione si scrive come somma di prodotti è un discorso del tutto generale ok quindi questa è la pull up network la rete di pull down si può ottenere in modo differente cioè qui bisogna riconoscere quando Y è uguale a 0 allora come posso fare la prima ve la ricavo in un modo analitico poi vi faccio vedere c'è un modo un poco più semplice di ricavarlo allora cosa faccio? la rete di pull down deve riconoscere Y negato allora quindi usiamo Y negato mi viene A B C più D E tutto negato allora voi vi ricordate probabilmente le leggi di De Morgan vediamo se ce l'abbiamo che sono queste due vedete e mi dicono mi dicono aspettate trovo la la sto cercando dove l'abbiamo viste dove l'abbiamo viste qui sì allora siamo in questo caso vedete A più B negato mi diventa A negato per B negato quindi in questo caso se torno all'ultima cosa qua mi viene questo termine negato mi viene il primo termine per le leggi di De Morgan mi viene questo negato per D E negato e di nuovo applicando un'altra volta l'altra legge di De Morgan cioè ABC negato mi viene A negato più B negato più C negato questo è il primo pezzo che moltiplica D negato più E negato quindi ho applicato due volte le leggi di De Morgan a questo punto sono in una situazione in cui è facile trasformare questa espressione in un circuito allora vi ricordo che la legge la rete di pulldown deve condurre quando Y negato è uguale a 1 quindi quando è che è uguale a 1 c'è l'entra di due termini devono essere tutti e due questi termini uguali a 1 quindi trasformiamo la cosa in proprietà elettrica la rete di pulldown deve condurre quando è soddisfatta questa relazione e anche l'altra relazione quindi ho due blocchi in serie quindi ho un blocco in serie e un altro blocco in serie quando tutti e due blocchi conducono la rete di pulldown conduce il primo blocco da cosa è fatto il primo blocco è l'or di tre quantità l'or di tre quantità è uguale a 1 se almeno una delle tre è uguale a 1 quindi dal punto di vista circuitale questo blocco il blocco che corrisponde a questo termine conduce se metto in parallelo tre termini ciascuno dei quali corrisponde a uno di questi ingressi se almeno uno dei tre termini conduce uno dei tre blocchetti conduce quindi posso mettere qua un transistore che conduce quando A è uguale a 0 quando A negato è uguale a 1 poi in parallelo a un altro transistore che conduce quando B negato è uguale a 1 in parallelo a un altro transistore che conduce quando C negato è uguale a 1 quando una delle tre condizioni soddisfatte se metto i tre transistori in serie il blocco conduce quindi questo mi diventa questa cosa mi diventa A negato B negato e C negato vedete perché devo usare degli NMOS se metto sul gate dell'NMOS A negato quando A è uguale a 0 A negato è uguale a 1 quindi il MOS conduce questo qui il parallelo di questi tre realizza questa funzione perché la pull down conduca deve condurre anche l'altro blocco che posso descrivere in questo modo quindi questa è la rete di pull down vedete quindi in pratica io qui ho un circuito unico una porta logica complessa cioè fatta da una rete di pull up e una rete di pull down che implementa quella funzione logica quindi questo ripeto è un caso particolare esemplificativo però poiché è del tutto generale scrive una funzione logica come somma di prodotti io qualsiasi funzione logica posso implementarla in questo modo la cosa che vi vorrei far notare è che la rete di come sapete la rete di pull up e di pull down sono complementari nel senso che per una certa configurazione degli ingressi una conduce e l'altra no ok quindi quando conduce una l'altra non conduce e così via come viene realizzata questa condizione vedete la cosa che notate è che gli ingressi sono uguali ma quello che è in parallelo nella rete di pull up è in serie nella rete di pull down quello che è in serie nella rete di pull up è in parallelo nella rete di pull down vedete qui ho abc negato in serie e di qua ho abc negato in parallelo qui ho d e negato in serie qui ho d e negato in parallelo qui ho due blocchi in parallelo e sotto ho i due blocchi analoghi però stavolta in serie quindi per esempio quello che uno fa tipicamente con un po' di pratica appena scrive alla rete di pull up non fa neanche questo calcolo la rete di pull down la fa automaticamente trasformando tutto quello che è in serie in parallelo e tutto quello che è in parallelo in serie è una cosa molto molto rapida facciamo un altro esempio supponiamo di fare ecco questa funzione logica questa è una funzione logica che si chiama or esclusivo or esclusivo si chiama anche xor dove questo x sta per exclusive or l'or esclusivo ha questa tabella di verità diciamo si ricorda bene perché è uguale a 1 quando gli ingressi sono diversi ed è uguale a 0 quando gli ingressi sono uguali quindi 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 diciamo la differenza rispetto a un or normale è che quando i due ingressi sono a 1 l'or esclusivo dà come uscita 0 l'or esclusivo è la funzione che si adopta per fare l'addizione senza riporto vedete se pensate questa è un'addizione senza riporto in base 2 0 più 0 fa 0 0 più 1 fa 1 1 più 1 fa 1 scusate 1 più 0 fa 1 1 più 1 fa 0 e porto 1 in base 2 quindi c'è l'ultima cifra mi è andata l'or esclusivo allora dal punto di vista della scrittura come somma di prodotti che è il primo esercizio che devo fare io lo posso rappresentare vedete com'è fatto in pratica non semplifico niente qui c'è 0 1 qui c'è 0 1 io ho questo questa mappa di Carnot e quindi non posso semplificare niente mi viene y uguale ad a b negato più b a negato quindi ho questo termine più questo termine a questo punto posso scrivere la rete e faccio quello che ho fatto ora faccio prima la rete di pull up quindi ho questo termine due transistori in parallelo ad altri due quindi so che è fatta così la rete di pull up qua devo mettere a negato b e qui devo mettere b negato a quindi questo termine e questo termine e poi questa è la rete di pull up la rete di pull down è uguale questi qui i primi due in serie mi diventano due in parallelo stavolta con n mos invece che p mos gli altri due in serie mi diventano altri due in parallelo e questo va a massa e l'uscita la prendiamo qua pronti vedete quindi funzione logica tabella di verità mappa di Carnot ora in questo caso è particolarmente semplice nel caso generale uno che cosa cerca di fare per esempio una volta che si ha la mappa di Carnot cerca di minimizzare la porta logica quindi come abbiamo visto insieme di trovare come l'abbiamo chiamato trovare gli implicanti più grandi di scrivere la funzione logica con gli implicanti più grandi in modo da minimizzare il numero di ingressi che servono perché come sapete ogni ingresso è un transistore quindi se riesco a minimizzare il numero di variabili che uso nell'espressione minimizzo il numero di transistori nel circuito logico quindi in generale poiché il costo di una porta logica è in generale il costo di qualcosa che va di un circuito integrato è proporzionale al numero di transistori perché è proporzionale alla superficie che si occupa sul circuito integrato quindi approssimativamente è proporzionale al numero di transistori è importante cercare di minimizzare il numero di transistori per minimizzare il numero di transistori si cerca di usare la mappa di Carnot per determinare l'espressione più semplice quindi con meno variabili di ingresso da inserire che descriva la stessa funzione logica va bene poi su questi temi faremo un certo numero di esercizi un po' di cose abbiamo viste poi per fare un po' di pratica conviene fare un po' di esercizi allora andiamo avanti sul discorso delle porte logiche che ci manca un aspetto ed è relativo al dimensionamento come si scelgono le dimensioni dei transistori che fanno una porta logica perché questo è importante perché come vi dicevo dal punto di vista della progettazione a disposizione di chi effettua la progettazione c'è nel caso di tecnologia MOS soltanto la dimensione dei transistori quindi soprattutto la lunghezza e la larghezza del gate questi sono i due parametri importanti il resto è fissato dal processo di fabbricazione ed è un aspetto su cui chi progetta il circuito non ha nessun rilievo invece si può determinare la lunghezza e la larghezza allora abbiamo già visto questo problema in realtà si abbiamo visto una cosa quando abbiamo parlato dell'inverter se vi ricordate abbiamo visto che nell'inverter se si vuole l'inverter bilanciato e quindi vogliamo per esempio avere anche i tempi di propagazione uguali nella transizione verso l'alto e nella transizione verso il basso dovevamo avere il rapporto W su L dei due transistori inversamente proporzionale ai rapporti delle mobilità vediamo però nel caso più generale una porta com'è che si scelgono quello è un criterio che va bene per l'inverter come si scelgono le dimensioni per una porta generale allora vediamo di scrivere il criterio generale criterio di dimensionamento allora il criterio guida è questo per ogni porta logica e per ogni combinazione degli ingressi il tempo di propagazione deve essere minore o uguale al tempo di propagazione di un inverter d'accordo? qual è il razionale? che cosa vuol dire questo? vuol dire che io una volta fissato il tempo di propagazione di un inverter sia nella transizione verso l'alto sia nella transizione verso il basso perché faccio in modo che siano uguali allora ogni porta che aggiungo al circuito faccio in modo che abbia un tempo di propagazione non più alto di quello dell'inverter di modo che a questo punto sono sicuro che la frequenza di clock massimo cioè la frequenza massima più elevata del circuito viene determinata dall'inverter e non dalle altre porte che aggiungo perché in generale cosa devo immaginare è che la frequenza massima di variazione degli ingressi di un circuito logico quella che si chiama anche frequenza di clock viene determinata e limitata dalla porta più lenta che voglio che tutto il circuito funzioni bene quindi bisogna che la velocità la frequenza di variazione degli ingressi sia tale che tutte le porte siano in grado di sopportarla per cui la porta più lenta limita tutto a questo punto se io faccio in modo che la porta più lenta sia l'inverter e tutte le altre siano più veloci sono sicuro che non va peggio che una volta che dimensionano l'inverter e dimensionano il clock sull'inverter il circuito funzioni bene a questo punto come si fa a valutare questa cosa questo è l'altro aspetto pratico dunque come si fa a valutare il tempo di propagazione di una porta logica si cerca di farlo in modo abbastanza approssimato cioè ad esempio io ho una porta logica complessa fatta dalle due reti di pull up e di pull down guardiamo la transizione dall'alto verso il basso beh io immagino di avere un carico che è questo che come nel caso dell'inverter descrivo con una capacità totale e immaginiamo la transizione dall'alto verso il basso dell'uscita nella transizione verso il basso che cosa avremo avremo che il la rete di pull down sarà in conduzione e la rete di pull up sarà interdetta e quindi la capacità si scarica attraverso la rete di pull down quindi è molto simile al caso dell'inverter nel caso dell'inverter la scarica avveniva attraverso l'nmos in questo caso invece la scarica avviene attraverso la rete di pull down in cui possiamo avere non solo un nmos ma più nmos in serie in parallelo si tratta di capire come si calcola il tempo di propagazione quando ci sono diversi nmos in serie in parallelo allora la prima cosa da notare è che come la rete di pull down si comporta da interruttore chiuso dipende dagli ingressi perché per esempio prendendo il caso di prima io potrei avere non prendiamo il caso ancora prima è più pratico qui io potrei avere che la rete di pull down conduce perché conducono un transistore del primo blocco e un transistore del secondo oppure perché conducono tutte e cinque chiaramente il tempo di propagazione può essere diverso se conduce solo un transistore quindi c'è soltanto un percorso oppure se ce n'è di più di uno allora com'è che si valuta si valuta in questo modo si guarda quali sono i percorsi si valuta qual è il percorso più lento quello che sicuramente mi dà luogo a un tempo di propagazione più lento quindi percorso che ha impedenza maggiore e si fa in modo che per quello il tempo di propagazione sia minore di quello dell'inverter per esempio tornando su questo circuito guardando questo qual è la situazione peggiore della scarica della transizione dall'alto verso il basso questo si capisce bene la condizione peggiore è quando c'è solo un transistore sopra che conduce tra ABC negato e solo uno sotto quello è il caso peggiore se poi oltre a quello conduce anche qualche altro transistore la scarica avverrà più rapidamente perché ho un come dire un percorso aggiuntivo quindi l'impedenza complessiva del sistema della rete si riduce quindi mi concentro sul caso peggiore allora se il caso peggiore è fatto da un solo transistore se avessi soltanto aspettate torniamo un attimo ok quindi scriviamo una cosa nuova allora quindi vediamo un pochino prendiamo il caso della rete di pulldown poi il discorso per la rete di pullup è uguale se ho più rami in parallelo il caso peggiore è quello in cui conduce un solo ramo va bene allora se ho invece se ho quindi alla fine io se guardo solo un ramo che conduce mi trovo in una situazione in cui posso avere più transistori in serie come mi comporto con più transistori in serie immaginiamo una situazione di questo tipo che è quella che ho per esempio con una con una NAND no? cioè A e B la scarica avviene attraverso due transistori in serie allora che tipo di ragionamento faccio e qui devo fare un ragionamento un pochino approssimato in questo modo quindi questo chiamiamolo M1 questo chiamiamolo M2 i due transistori M1 sarà caratterizzato da una W1 e da una L1 M2 sarà caratterizzato da una W2 e da una L2 per semplicità guardiamo quando sono in zona lineare i due transistori allora avrò che la corrente in M1 I1 chiamiamola è uguale a K1 il K del primo transistore per VGS1 meno VT per VDS1 qui c'è un 2 e I1 e I2 invece I2 che passano attraverso il transistore 2 sarà uguale a 2 K 2 per VGS2 meno VT per VDS2 allora approssimativamente questo questo questa corrente possiamo scriverla anche come 2 K1 qui che moltiplica VGS all'incirca è VDD perché sul G applichiamo VDD l'S non è 0 ma insomma più o meno è vicina a 0 quindi va bene così per VT diviso VDS1 per VDS1 questo qui sarà 2 K2 VDD meno VT per VDS2 allora questo che cosa vuol dire vedete che il primo transistore si comporta all'incirca come una resistenza di valore l'inverso del coefficiente della VDD quindi in pratica la cosa assomiglia a quella di avere una sì una resistenza R1 che è questa roba qua l'inverso di questa roba vediamo un po' di scriverla in questo modo e questa qua si comporta come una resistenza R2 che è l'inverso di questo termine quindi è come se avessi una cosa del genere e quindi dal punto di vista della scarica si comporta come se avessi una resistenza equivalente che è pari alla somma di R1 più R2 quindi diciamo i due transistori in serie si comportano come un'unica resistenza ma del resto anche un unico transistore assomiglia a un'unica resistenza che rapporto c'è tra le due vediamolo un attimo se posso vado avanti a una pagina nuova abbiamo detto ho una R1 la scrivo per esteso è l'inverso di questa roba qua quindi è 1 diviso 2K1 VDD meno VT 1 diviso 2K1 VDD meno VT se faccio la somma R1 più R2 questa la posso scrivere in questo modo R equivalente ho detto posso scrivere così K equivalente VDD meno VT se definisco K equivalente in modo che sia valida questa relazione perché vedete tutto il resto uguale cambia soltanto K quindi il K equivalente è praticamente il parallelo di K1 e K2 quindi dal punto di vista del tempo di propagazione avere due transistori in serie con un certo K1 e con un certo K2 equivale ad averne uno no? un transistore equivalente con un certo K equivalente che dove questo K equivalente è il parallelo di K1 e K2 allora poiché K1 è uguale a mu per COX per V1 su L1 e K2 è uguale a V per COX per V2 su L2 allora di nuovo il K equivalente sarà un mu COX per W equivalente divisa L equivalente e questo vuol dire che se K equivalente era il parallelo di K1 e K2 anche W su L equivalente sarà uguale al parallelo di W su L1 e W su L2 quindi ripeto dov'è che siamo arrivati siamo arrivati a dire questo che se ho due transistori in serie che fanno la rete di pull down dal punto di vista del tempo di propagazione i due transistori in serie si comportano come un unico transistore che abbia il rapporto W su L uguale al parallelo dei due rapporti W su L ok allora adesso arriviamo a chiudere il discorso perché condizioni per avere vediamo il tempo di propagazione di un inverter come era fatto noi avevamo detto che questo l'abbiamo calcolato insieme e lo riscrivo abbiamo detto che il tempo di propagazione l'inverte è fatto così ho un transistore N un transistore P quindi è un caso particolare di porta logica abbiamo trovato questa relazione il tempo di propagazione da alto a basso era COX per WDD non COX C totale per WDD diviso 2KN WDD meno WT al quadrato il tempo di propagazione da basso ad alto avevamo calcolato era uguale a C tot per WDD per 2 volte K P WDD meno WT al quadrato più WP meno modulo di WTP ok questo è WTN che è positivo WTP è negativo quindi allora abbiamo detto se WTN è uguale a meno WTP e KN è uguale a KP i due tempi allora i due tempi sono uguali questa è la condizione di inverter bilanciato quindi noi ci mettiamo sempre in questa situazione i due KN e KP sono uguali e le due tensioni solida sono uguali allora cosa dobbiamo fare se abbiamo due transistori in serie il K equivalente quindi se abbiamo più transistori in serie in serie il K equivalente deve essere maggiore o uguale di quello dell'inverter a questo punto se K equivalente è maggiore o uguale a quello dell'inverter il tempo di propagazione sarà minore o uguale a quello dell'inverter perché vedete K è qui il denominatore d'accordo è chiaro il discorso quindi mi devo mettere nelle condizioni che anche se ho diversi transistori in serie il K equivalente della serie sia almeno uguale a quello dell'inverter dal punto di vista pratico è molto semplice da verificare perché è per quello che ho scritto prima in sostanza il K equivalente è proporzionale al rapporto W su L quindi per me è facile ricavare il rapporto W su L equivalente perché devo fare il parallelo dei due rapporti W su L quindi che cosa vuol dire vuol dire questo K N dell'inverter è uguale a mu ox W N per L N questi qui sono W e L del N mos nell'inverter questo è mu N il K P dell'inverter sarà mu P per C ox per W su L P e questi due sono W ed L del P mos nell'inverter nell'inverter bilanciato K N e K P sono uguali quindi mu N per W N su L N deve essere uguale a mu P per WP su L P e quindi vuol dire la cosa che dicevo prima cioè il rapporto tra i W su L dell'N mos e del P mos sono in ragione del rapporto inverso tra le mobilità WP e WN N tradizionalmente questo qui si chiama anche N nel dimensionamento dunque scrivo qua si chiama N il rapporto W N su LN e P il rapporto WP su L P spesso cosa succede specialmente in mosfet vecchi la mobilità delle lacune era più piccola la mobilità degli elettroni quindi spesso P era più grande di N tipicamente per esempio N si faceva 2 e P si faceva 5 oppure N uguale a 2 più uguale a 4 insomma dipende dal rapporto delle mobilità nelle tecnologie più recenti in realtà queste due mobilità sono praticamente uguali quindi si scelgono uguali allora se ho 2 immaginiamo a questo punto se nella pull down se nella pull down ho 2 N mos in serie allora io so che il rapporto W su L equivalente è uguale al parallelo del rapporto W su L di ciascun transistore se voglio che questo sia minore o uguale del rapporto W su L dell'inverter allora per esempio se ho due transistori basta che ciascuno dei due basta scegliere W 1 su L 1 uguale a W 2 su L 2 uguale a due volte il rapporto W su L dell'inverter ok se ciascuno dei due quindi mosfet che finiscono in serie lo faccio con il rapporto W su L doppio rispetto a quello di un inverter il tempo di propagazione della pulldown mi viene uguale a quello di un inverter va bene quindi in generale se nella pulldown network ho L N mos in serie allora ciascun W su L dell'iesimo transistore lo faccio con L volte il rapporto W su L dell'inverter quindi è facile tenete presente questo incide soprattutto sulla larghezza perché le lunghezze poi nella pratica per avere la frequenza di clock più elevata possibile si fanno pari al minimo valore consentito della tecnologia e quindi quel rapporto W su L diventa in pratica un rapporto tra le larghezze analogamente se in una rete di pullup ho L P mos in serie allora il rapporto W su L dei vari P mos è fatto dal rapporto W su L del P mos dell'inverter moltiplicato per L quindi chiaro quindi poi nella pratica il dimensionamento è molto semplice devo tenere presente che se metto N in pratica se li faccio tutti i transistori di lunghezza minima se metto L transistori in serie bisogna che li faccia tutti le volte più grandi di quello di un inverter le volte più larghi di quello di un inverter quindi per esempio tornando al al circuito ad esempio questo è un questo qua allora prendiamolo un attimo se io seleziono questo disegno ok voglio fare il dimensionamento quindi prendo questo disegno e lo porto qua allora esempio dimensionamento della porta allora P è uguale al rapporto WP su LP dell'inverter del P MOS dell'inverter N è il rapporto W su N su LN dell'N dell'N dell'inverter allora quanto deve essere il rapporto W su L e tutti gli altri guardiamo vediamo prima la pull down la pull down nel caso peggiore ho un transistore che conduce sopra e un transistore che conduce sotto quindi il rapporto W su L dovrà essere 2N 2N N quello del singolo inverter 2N 2N dovrà essere 6C1 2 chiaramente posso avere qualunque combinazione di due quindi dovrà essere per ciascun inverter per ciascun MOSFET scusate il rapporto W su L pari al doppio di quello dell'inverter è chiaro che il tempo di propagazione nel caso peggiore viene uguale a quello dell'inverter se invece poi conduco tutti i transistori adesso ho tre transistori in parallelo con il rapporto W su L di 2N si comportano come un unico transistore largo il triplo quindi il tempo di propagazione mi viene più basso però mi interessa il caso peggiore lo stesso di qua è facile nel caso peggiore posso avere da questa parte solo questo ramo che conduce c'è tre in serie quindi il rapporto W su L di ciascun transistore di questi dovrà essere uguale a 3P ok dall'altra parte invece c'è non due e quindi il rapporto W su L e questi due dovrà essere uguale a 2P a questo punto sono sicuro che nel caso peggiore il tempo di propagazione dal basso verso l'alto sarà uguale a quello dell'inverte se poi conduco con tutti e due i rami a quel punto il tempo di propagazione mi verrà alla metà poi il dimensionamento della frequenza di clock tanto comunque la faccio sul caso peggiore d'accordo allora giusto per farvi notare un'altra cosa e voglio fare altri due esempi prendiamo una NAND a tre ingressi e facciamo anche il conto dell'area allora una NAND a tre ingressi abbiamo visto come è fatta perché l'uscita è uguale a 1 se almeno uno dei tre ingressi è uguale a 1 quindi ho come rete di pull up tre ingressi S no scusate una NAND è uguale a 1 se almeno uno dei tre ingressi è uguale a 0 quindi per avere almeno un ingresso l'uscita che conduce quando almeno un ingresso è uguale a 0 devo mettere tre P-MOS in serie vedete in parallelo perché quando uno degli ingressi è uguale a 0 il P-MOS corrispondente conduce quindi la pull up conduce invece quando è che l'uscita della NAND è uguale a 0 quando tutti e tre gli ingressi sono a 1 e quindi deve avere tre transistori in serie nella rete di pull down va bene adesso facciamo il dimensionamento quindi questi qua dovranno essere tre N e questi chiaramente almeno uno conduce quindi ciascuno di questi singolarmente dovrà avere il rapporto W su L almeno pari a quello di un inverter ok adesso facciamo una stima dell'area occupata come la facciamo questa stima dell'area è una stima abbastanza approssimata però funziona facciamo l'area occupata da ciascun transistore è all'incirca l'area del gate ok quindi W per L chiaramente ci sono anche i contatti però diciamo per il momento trascuriamo facciamo il conto immaginiamo che i contatti siano una proporzione fissa dell'area del gate quindi più o meno è l'area del gate quindi l'area totale approssimativamente sarà uguale alla somma su tutti i transistori di W per L allora immaginando che tutti i transistori siano di lunghezza minima io L lo posso portare fuori al quadrato e mi diventa la somma di tutti i rapporti W su L dei transistori d'accordo ho portato tanto questo LI è una L generica tanto è tutto uguale quindi nel mio caso qui che cosa ho? ho tre transistori che hanno rapporto W su L pari a P e tre transistori che hanno rapporto W su L pari a N quindi qui mi viene L quadro per 3P più 9N va bene? allora nel caso del decimos facciamo un esempio se N è uguale a 2 e P è uguale a 5 che è un caso pratico allora l'area quanto mi viene? 3 per 5 15 9 per 2 18 15 18 fa 33 quindi l'area mi viene 33 L quadro ok? allora questo è giusto per avere una dimensione ora per confronto prendiamo una NOR a tre ingressi in tecnologia ci mossa allora questa cosa l'abbiamo già vista per cui corro abbastanza veloce quindi la NOR come funziona? la NOR è uguale a 0 va bene? quando anzi no la NOR è uguale a 1 quando tutti e tre gli ingressi sono 0 è l'unico caso in cui la NOR è uguale a 1 quindi siccome abbiamo bisogno che tutti e tre gli ingressi siano a 0 mettiamo tre transistori in serie controllati da ciascuno dei tre ingressi quindi la rete di pull up viene fatta da tre transistori in serie e quindi la rete di pull down viene fatta da tre transistori in parallelo allora vedete in pratica perfettamente complementare la NAND alla NOR alla NAND questa è la C e torna perché la NAND è sempre a 1 tranne quando tutti gli ingressi sono a 1 la NOR è sempre a 0 tranne quando tutti e tre gli ingressi sono a 0 quindi si descrive in modo abbastanza si scrive in modo perfettamente complementare anche il circuito rispecchia questa complementarità allora il dimensionamento viene facile perché per la pull up ho tre transistori in serie quindi ciascuno dovrà avere un rapporto W su L pari al triplo di quello dell'inverter nella pull down quando conduce almeno 1 deve avere il tempo di propagazione uguale a quello dell'inverter quindi ciascuno dei tre transistori singolarmente deve avere un rapporto W su L a quello dell'inverter allora se faccio l'area occupata anche in questo caso mi viene la stessa cosa ma stavolta mi viene così L quadro per stavolta mi viene 9P più 3N giusto? se N è uguale a 2 e P è uguale a 5 come nel caso che abbiamo visto prima viene un numero diverso perché se faccio il conto vedete viene A uguale a quanto? 9P fa 45 più 3N fa 6 45 6 fa 51 quindi questo viene 51 L quadro vedete la differenza? in pratica in termini di area occupata una NOR a 3 ingressi occupa un'area nettamente più grande di una NAND a 3 ingressi va bene? perché questa considerazione è utile da notare? perché vi ho fatto vedere che una funzione logica qualunque la potete fare come AND di OR o NAND di NAND o NOR di NOR vi ricordate che abbiamo visto con le leggi di De Morgan che si può fare uguale allora noi abbiamo detto guardate in tecnologia CMOS è più facile fare NAND e NOR quindi tra le tre configurazioni la NAND di NAND e la NOR di NOR sono quelle più realistiche per la scelta ora si vede bene che tra le due è preferibile la NAND di NAND perché le NAND si fanno a parità di funzione quindi a parità di ingressi si fanno più piccole d'accordo? questo è il motivo per cui tradizionalmente in tecnologia CMOS si preferisce sempre usare la NAND di NAND e la NAND come porta logica quindi in tecnologia CMOS cioè questo è vero molto in tecnologia CMOS classica in cui effettivamente il P è più grande dell'N perché la mobilità delle lacune è più bassa nella tecnologia moderna questo problema è meno sentito in tecnologia CMOS le porte NAND sono preferite cioè preferibili e quindi anche funzioni logiche NAND anche se uno va a vedere le funzioni logiche che vengono poste in commercio le porte logiche complesse che vengono poste in commercio di solito di solito si vede una evidente preferenza per le NAND che è solo dovuto al fatto che a parità di altre condizioni quindi a parità di tempo di propagazione eccetera le NAND si fanno più piccole si riescono a fare più piccole ok perfetto ci fermiamo a fare più piccole a fare più piccole